SONO STATO CREATO PER SALVARE IL MONDO Gli uomini avrebbero dovuto guardare il cielo per trovare speranza. Sarà la prima cosa che perderanno. Esiste una sola via per la pace. La loro estinzione. Ho cercato di creare un'armatura intorno al mondo. Ma ho creato qualcosa di terribile. Intelligenza artificiale. Si chiama programma Ultron. Sono stanco che la gente paghi per i nostri errori. Non combattiamo per porre fine alla battaglia e tornare a casa? Beh, hai sorprendentemente fallito. Eccoci qui. Con solo il nostro intelletto e la nostra volontà di salvare il mondo. Alzatevi e combattete. È impossibile farcela. Non ho impegni domani sera. Tocca sempre a me raccogliere i pezzi. Noi possiamo dividerli. All'interno. Non sai fare di meglio! Dovevi proprio chiederlo. No! 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 Grazie a tutti.